Se non hai il fuoco che ti fa andare avanti è inutile continuare, bisogna prima essere onesti con se stessi e poi anche con una società che ti ha dato tanto, con tifosi che ti hanno dato tanto. The day after, il giorno dopo la comunicazione del difensore Luca Antonini di appendere le scarpe al chiodo, arrivano le spiegazioni sulla decisione sorprendente in attesa da parte del capitano del Prato. È giusto non prendere in giro nessuno e cercare di trovare stimoli ulteriori, diversi. Luca Antonini rimarrà all'interno del Prato con un ruolo nel settore giovanile. Fino al termine della stagione affiancherà Vincenzo Espovito nel ruolo di responsabile della cantera La Nera. Poi dalla prossima stagione inizierà sempre in bianco-azzurro la carriera da allenatore delle formazioni giovanili. Sicuramente inizierò questo fine anno affiancando Esposito e allenando i ragazzi del settore giovanile, le eccellenze del settore giovanile un paio di volte a settimana, mentre il resto della settimana andrò a visionare un po' i vari allenamenti dei vari allenatori, sempre affiancato da Ciccio che è un allenatore che mi ha cresciuto da professionista e che mi crescerà sicuramente da allenatore e mi aiuterà a intraprendere questa nuova professione. Luca Antonini chiude con il calcio giocato e apre l'album dei ricordi. La vittoria dello Scudetto è un passo importante della mia carriera, è un ricordo che porterò dentro di me per sempre. Sono orgoglioso di aver fatto parte della società Milan perché mi ha cresciuto come ragazzo e come giocatore mi ha dato tutto. Prato per Luca Antonini, punto di partenza e di arrivo della propria cardiera calcistica, strano destino del calcio. L'avevo promesso che avrei finito la carriera qui e così è stato e sono felice di reiniziare una nuova carriera in una società che mi ha lanciato da calciatore professionista e che spero mi lanci da allenatore. Grazie. 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 Grazie.